Ripieno a base di fichi secchi ideale per biscotti e buccellati. Puttiamo i fichi in acqua calda e lasciamoli stare per 4-5 minuti. Facciamo asciugare. Facciamo tostare le mandorle e le noci. Spezzettiamo il cioccolato fondente. Tagliamo il picciolo. Tagliamo a pezzettini i fichi. Tagliamo le mandorle. Tagliamo le noci. Alle mandorle, noci e fichi tritati. Aggiungiamo il cacao, l'uva sultadina, il cioccolato tritato, la cannella e la marmellata. MESCOLIAMO Io però aggiungo anche il miele. Adesso mescoliamo tutto insieme. Dopo aver mescolato bene gli ingredienti del ripieno, facciamo riposare per due ore. Tagliamo le noci. Tagliamo le noci. Tagliamo le noci. Tagliamo le noci. Tagliamo le noci.